Quarta corsa, una prova di Vito per Cavalli Anziani, è la terza manche del Tommaso Grassi Award, sono in dieci Alvia, uno Ubi, Maio Regal, due Balsamo Leone Tre Amore Stecca, quattro Boato di No Cinque Bomber B, sei Ultras Griffi, seconda fila, sette Ussaro Egra Lotto Turbinelle, P9 Dakota, winner dieci Artico OP Favorito Ultras Griff Con il numero sei, parte con Molta cautela Artico OP E allo stacco Balsamo Leone Che tiene la testa, all'esterno Veloce Boato di No, che contiene Bomber B Tra i due c'è anche Amore Stecca Resta così in mezzo alla pista Ultras Griffi Mentre sbaglia Balsamo Leone, sbaglia anche Amore Stecca Rimane al comando Il numero uno di Ubi, Maio, Regal All'esterno Boato di No, mentre Ultras Griffi è in terza pariglia All'argo, alle spalle anche di Dakota Winner Che si trova in seconda pariglia 29-1 per il primo quarto di gara Con il vantaggio Ubi, Maio, Regal con Enrico Bellè In seconda posizione allo steccato E filtrato Turbine LP A precedere in terza posizione Bomber B Mentre di fuori c'è Boato di No Quale si trascina Dakota Winner Muove in terza corsia Al passaggio davanti alle tribune Artico OP Che risale in terza ruota Rifà il gruppo E cerca di portarsi Sulla testa della corsa Ubi, Maio, Regal All'esterno ha passato I primi 800 metri In 59-8 Prova a scendere allo steccato Buato di No Avanti a Turbine LP In seconda posizione Mossa che però non riesce Entrambi vengono scavalcati Da Artico OP Si muove in mezzo alla pista Anche Dakota Winner In anticipo su Ultras Griffi il chilometro Passati in 1-14-6 Da Ubi, Maio, Regal Che prova a scappare Da Artico OP Dakota Winner Quindi Ultras Griffi Ubi, Maio In vantaggio Con due da gestire Nei confronti di Artico OP E Dakota Winner 14-2 Di là È in evidenza Ubi, Maio, Regal Che si mantiene in evidenza Nei confronti di Numero 9 Da Dakota Winner Squalificato Artico OP Poi Ultras, Griff La retta d'arrivo Con Ubi, Maio, Regal Ed Enrico Bellè Che si distendono A vincere in maniera Nettissima Al secondo posto Artico OP Al terzo posto C'è lotta Tra Ultras Griff Che si tiene Alle spalle Bomber B 29-6 La chiusa 1-14-2 Raguaglio cronometrico Enrico Bellè In sediolo Ad Ubi, Maio, Regal Il training di Giuseppe Citarella I colori di Michelangelo Francese La vittoria Del numero 1 Enrico Bellè Che porta a casa Dieci punti Si avvicina in classifica E migliori Il successo di Enrico Bellè Ed Ubi, Maio, Regal Diolabia Padre Word Si avvicina in classifica Cosa Pasca Obadia Cap Quiero Se Ad Hot disagree Grazie a tutti